Una notizia importante, questa notte sono finalmente arrivate 300.000 mascherine, 150.000 FFP2, quindi quelle di alta protezione, e 150.000 di chirurgiche. Strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per essere protetti, per poter continuare a offrire assistenza. Aspettiamo altro materiale, ma questa notizia l'attendavamo, molto importante, è un passo in avanti che ci aiuta tutti nel gestire al meglio questa situazione. Grazie.